Niga, Dossena, Cigarini e Maiello e poi Blasi dietro alle due punte che erano Lavezzi e Insigne. Allora andiamo a vedere proprio come è andata. Terza amichevole stagionale per il Napoli che affronta la cittadella. Napoli in montaggio al 14esimo, grandestro di Cigarini che batte Piero Bon 1-0. Festeggia Luca Cigarini dato sul piede di partenza. Il Napoli trova anche il raddoppio, c'è questo cross dalla sinistra, colpo di testa di Maiello che anticipa Marchesan. Poi numero di Insigne che trova il gol del 2-0, splendida rete del giovane attaccante del Napoli. Nel finale accolce la cittadella, calcio d'angolo dalla destra, a vuoto Rinaudo, ci arriva Gabbiadini, nulla da fare per Iezzo. 2-1 il risultato finale.